La Tuputi La Tuputi Sicuramente mi daranno una mano nel ricostruire quello che attualmente a Barletta, così come anche a livello regionale, abbiamo col tempo perso. Premiato l'impegno da parte dei Vertici nei giorni scorsi, qui all'inaugurazione c'era l'On. Fucci, c'era il consigliere regionale Francesco Ventola. Certo, hanno voluto sicuramente premiare l'impegno che io ho messo nell'ultima campagna elettorale regionale, un impegno che è stato, come tutti hanno visto, difficile, però che ha portato ad ottimi risultati e che alla fine, perché no, mi ha dato anche questo riconoscimento. Ecco, un movimento alternativo, cosa c'è da fare molto in questa direzione, in questo territorio, in questa provincia? Allora, come ho già detto anche agli amici che compongono il direttivo che mi affianca in questo duro lavoro, l'impegno sarà veramente arduo, perché la situazione è completamente da ricostruire, ma la squadra è disposta a duri sacrifici, perché, ripeto, siamo in un momento veramente di stallo per la nostra città, ma anche a livello regionale, quindi abbiamo bisogno di gente con tanta buona volontà, forza di impegno, forza di sacrificio e quindi ce la metteremo tutta per fare un'opposizione concreta e non buttare al vento parole solo sui giornali, ma fatti. In particolare, quali settori avete radiografato in questa direzione? Oddio, la scelta è ampia, perché i settori sono tanti, dall'agricoltura, dalle problematiche anche della vivibilità barlettana, parliamo di strade, parliamo di un sindaco, mi dispiace dirlo, che è completamente assente. Da Barletta per News24.city, Floriana Tolver.